Ed eccoci qui di nuovo in studio quando sono le 9.37, come vi avevo promesso amici adesso cominciamo a entrare un po' nel vivo della festa di San Pio. Lo facciamo con la prossima ospite che è qui con noi. La presentiamo in questo modo, ha cantato in 180 paesi, per 14 anni soprano solista dell'orchestra sinfonica di New York e poi Madison Square Garden, sede delle Nazioni Unite e ci fermiamo qui perché la lista è molto lunga. Ma noi l'abbiamo voluta qui oggi e lei ha voluto essere qui oggi per raccontare la sua storia con Padre Pio. Signore e signore abbiamo il piacere di avere con noi Gloria del Paraguay. Benvenuta Gloria. Veramente sono molto molto felice di stare qua per parlare sopra il concerto dell'amore. Perché all'amore? Perché l'amore veramente è tutto, è Dio presente, è Dio presente in noi. Il canto, la voce, veramente è una benedizione. Noi possiamo dire tante cose belle e tante cose belle si fa, ma se tu dici cose brutte, cose brutte si fa. No, no, è meglio metterla al servizio di Dio, quindi per le cose belle è giusto. È giusto il servizio di Dio. Prima volta a San Giovanni Rotondo, Gloria? No mia cara, sono stata qua il giorno, il giorno del milagro. Perché ho recevuto un milagro molto grande. E da quello tempo, a venti anni fa, ho conosciuto qua un fratello che mi ha aiutato per venire a fare questa presentazione. Bene, bene. Ma le volevo chiedere, San Giovanni Rotondo, città dell'accoglienza, è stata accolta col giusto calore quando è arrivata? Sicuro. Oh bene, questo ci fa piacere, per noi è importante. Sicuro. Gloria, com'è nata la sua vocazione per Padre Pio? Un po' ci vuole raccontare questa storia che aveva cominciato a dire? Devo dirle la verità. Io non conosceva Padre Pio, ma un giorno sono stata vicina alla morte e ho chiesto al mio figlio a prendere un sacerdote. Cosa stava succedendo? Che cosa le era successo? Aveva preso una malattia? Una malattia molto terribile. Quando sono ritornata di fare il concerto al Cairo, Egitto. Così non sono venuto al sacerdote. Il mio figlio non ha chiamato il sacerdote. Ma alla notte ho sentito qualcuno essere seduto al mio letto. Quindi da quello che capisco, lei cercava un sacerdote per parlare per una confessione, perché pensava di essere già all'ultimo. All'ultimo sono stata. E suo figlio non ha chiamato nessuno? Non ha chiamato nessuno. Ma quella notte ho sentito, essere seduto, ho visto un sacerdote meraviglioso che mi guardava. Così sono tentato a alzarmi e gli ho detto, Padre, in mia vita ho fatto quello che poteva fare, ma mai ho fatto una cosa brutta pensandolo. Così lui mi ha detto, no, perché mi ha visto che era una cosa difficile di parlare. E lui mi ha detto così. Le ha fatto segno di fare silenzio? Sì. E mi ha detto, io ti assolvo. E mi ha fatto la croce. Così. Va bene. E poi cosa succede? E dopo? E dopo sono venuta la mia famiglia e mi ha detto, ma se ti vedi molto bene. Io stavo già molto contenta. E le ha detto, grazie perché tu mi inviaste il sacerdote. Ma lui mi ha detto, ma io non ti ho inviato nessuno. Bellissimo. Non ti ho inviato nessuno. Tu hai sicuro sognato? E molto tempo ho pensato che fu un sogno. Ma un giorno, dopo 8 mesi, 9 mesi, sono venuta a Italia per fare concerti. All'entrare all'aereo ho visto tutta la foto del Padre Pio. Ho visto, ma è questo il sacerdote che mi hanno aiutato. Perché prima non conosceva Padre Pio. Io non conosceva. Mai sentito parlare di Padre Pio. Ma io ho sentito. Io sono cristiana. Io sono sempre al piede di Gesù. Ma io non ho conosciuto questo. Dopo l'ho visto. Il giorno della beatificazione. Il giorno della beatificazione. Quindi parliamo di tanti anni fa. Sì. Sì, il giorno della beatificazione. E come è andata? E la piazza San Pietro, quando sono caduta quella, con la foto del santo. Ah, quando è caduto il telo dal quadro di Padre Pio che si mostra poi al momento della beatificazione. Assolutamente. E lei lì in quel momento ha riconosciuto Padre Pio. Ho sentito che era quello. Fantastico. Perché il miracolo, generalmente la gente lo chiede. Mi fa qualcosa, vi sogno qualcosa. Ma io non ho chiesto. Eh, ma Padre Pio fa questi scherzi. Ma che maraviglia. Ma che maraviglia che lui ha fatto la mia vita. Sì, sì. Di questo momento sono a pensare che devo fare per essere utile alla gente della mia vita che ho fatto. Io sono psicologa. Lavoro per la gente. Faccio la musicoterapia. Quindi, insomma, veramente la voce al servizio di Dio e della gente. Al servizio di Dio. Ma vogliamo adesso ricordare un po' gli appuntamenti. Lei è qui per il concerto dell'amore. Sì. Ci sono tre date in questa terra garganica. La prima c'è stata già il 17 di settembre, il giorno delle stimate di San Francesco. E lo avete... È un luogare maraviglioso. Avete cantato lì nel convento di San Matteo, giusto? Sì, sì, sì. Ed è stato un grande evento, molto seguito. Quindi è andato molto bene. Maraviglioso. Sono andato molto bene. Io ringrazio, ringrazio tanto al priore del... Fra Stefano. Fra Stefano. Sì, sì. Mamma mia, sono stato tan felice. Tutto quello, il logo è benedetto, veramente. È certo, sì. È maraviglioso anche la gente. Sono i tre santuari più importanti del Gargano, perché il 26, se non sbaglio, sarete poi nella cornice fantastica, meravigliosa della Basilica di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. Ecco. Ecco. Mentre invece vogliamo fare l'invito per stasera, questa sera, alle 20.45, nel santuario, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, qui a San Giovanni Rotondo, ci sarà il concerto dell'amore tenuto proprio da Gloria del Paraguay. Ah, se ne metà il sentito allora. Il messaggio di Gloria proprio per il concerto dell'amore. Prego. Senti, fratello, che l'amore di Dio è tan forte, ma tu devi buscarlo. Vedere l'amore di Dio. Cercarlo. Deve cercare l'amore di Dio. L'amore sta qua, l'amore sta con lui. E fa della tua vita una cosa bella. Tutti noi abbiamo problemi, malattie e tante cose. Non parla di questo. Parla al Signore di questo. Ma non parla con tutti quanti. Un bello giorno, un bello giorno di Dio abbiamo oggi. Deve parlare tutti, tutti. E così la nostra vita è meglio. Grazie, grazie. Gloria, noi vi ringraziamo e vi seguiremo stasera. Sì. E anche a Monte Sant'Angelo. Grazie, grazie di cuore per questo intervento. Speriamo di vederci ancora. Oggi anche io devo presentare una ricordazione. Sì. Il disco di Sampio. Ah, ecco bene. Tutta la mia canzone per Sampio. Ecco, va bene. Grazie, grazie. Grazie a lei. Adesso lasciamo lo studio al nostro caro Fran Nicola Monopoli e al nostro direttore Stefano Campanella per la diretta che ci sarà poi per la commemorazione delle stimmate di Sampio. A tra poco. Grazie a tutti.